C'è stato un tempo in cui i produttori di smartphone e tablet si sfidavano a colpi di innovazioni. Fotocamere 3D, display pieghevoli, schermi curvi, maledetti schermi curvi, fino ad arrivare ad una sorta di pace tecnologica, di saturazione delle innovazioni che da qualche anno ci limitano nel ricevere novità dall'effetto. Wow! Galaxy Tab S9 Ultra è semplicemente un mega tablet, ma vi assicuro che prenderlo in mano, accenderlo, guardarlo ed usarlo sarà per i vostri occhi e le vostre menti bramose di tecnologia come la mia. Come un bignè alla crema o un profiterolo al cioccolato. In questo video ti spiego perché. Partiamo! Confezione estremamente minimalista, estremamente sottile, esattamente come il tablet, tutta carta, non c'è plastica, un plauso a Samsung. All'interno troviamo solamente il tablet, il pennino, il pin per rimuovere SIM o microSD. Un bel cavo tipo C, tipo C, lungo 1,80 m, cosa che non capita spesso a ricarica rapida perché il tablet supporta 45 Watt. Anche la pinzetta per rimuovere le puntine delle SPEN è una puntina di ricambio che in questo momento non mi ritrovo. Questo è il Mega Tablet 32,6 x 20,8 x 5,5 mm di spessore. È una costruzione favolosa, completamente in alluminio, tranne per la plastica delle antenne superiori ed inferiori. 732 grammi di peso. Certificazione IP68, che la differenzia quindi da S8 Ultra che non aveva alcuna certificazione. Snapdragon 8 Gen 2, espandibilità di microSD fino a 1TB, vero Apple? GPU adreno 740 a 717 MHz, 12 GB di RAM per la versione da 128, 256, 512 GB, 16 GB di RAM per la versione da 1TB. 4 speaker Dolby Atmos posizionati sui bordi by AKG. Doppia fotocamera posteriore da 13,8 megapixel, una 26 mm e una grandangolare di buona qualità. Doppia fotocamera anteriore di qui una 120 gradi di apertura ultra grandangolare. Il tablet trattiene abbastanza le ditate nonostante questa finitura opaca bellissima. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, USB 3.2 con uscita anche video, Dex wireless senza quindi l'utilizzo del cavo. Batteria da 11.200 mAh, Android 13 con 5 anni di aggiornamenti, main aggiornamenti garantiti. Sensore di impronte sotto al display, in questo caso sto appositamente utilizzando un dito non registrato che mi ha stupito particolarmente perché funziona anche con pellicola in vetro applicata, anche al buio. Stessa cosa per il riconoscimento facciale, ovviamente 2D, che funziona perfettamente anche in condizioni di scarsa luminosità perché una volta che si accende questo schermone praticamente vi fa da faro in faccia, vi illumina il volto e vi sblocca il tablet. Proprio dal display voglio partire, una bellissima unità 14,6 pollici di diagonale 2560 x 1600 HDR 10+, 91,7% screen tubo di ratio 120Hz variabili, Super AMOLED 2x, 207 ppi 24 bit, protezione occhi veramente veramente efficace. Gamma dinamica è veramente eccezionale. Ora questo banale sfondo non rende assolutamente la qualità del display che vi assicuro è veramente ma veramente un begnia la crema per gli occhi. Vi lascio ammirare la qualità straordinaria di questo display. È forse davvero la prima volta in cui Samsung è riuscita a far dialogare in maniera perfetta tutte le componenti, sia hardware che software perché il lettore di luminosità, perché la luminosità stessa, il contrasto, il micro contrasto, la protezione degli occhi presente su questo display in tutte le condizioni di luminosità vi renderanno la visione di testi e contenuti multimediali veramente eccezionale senza mai affaticarvi la vista, senza mai darvi quel senso di finto. È probabilmente il display più simile ad una stampa che io abbia mai visto. Ecco, una delle cose che mi sono sempre chiesto è come cavolo facesse Samsung a vendere display ad Apple perché il 90% dei dispositivi Apple hanno lo schermo fatto da Samsung e farli vedere peggio. Cioè, è tutta una questione di implementazione hardware e software, cioè come riesce il lettore di prossimità, come riesce la fotocamera anteriore, tutti i vari sensori, come riescono a leggere la luce ambientale, a regolare i micro contrasti, a regolare la micro definizione e a regolare lo stesso refresh rate perché deve essere tutta una sinfonia unica che va in un'unica direzione e vi permette di gustarvi e godervi un display che è veramente favoloso. Ma sarebbe assai riduttivo parlare di un bestione come questo come solo display perché sotto al cofono di questo tablet in realtà c'è un top di gamma 2023 con schermo ROCCO, con schermo XL perché abbiamo la Snapdragon 8 Gen 2 che è performante in una maniera allucinante, una spada non scalda. Anche in video editing avanzato 4K con CapCut, la temperatura massima raggiunta in questa zona, quindi vicino le fotocamere dove c'è il processore, è stata di 32-33 gradi, il che è eccezionale visto che a ottobre quest'anno stiamo ancora fuori con 31-32 gradi. 12 GB di RAM per le versioni 256 e 512 GB di memoria interna, UFS 4.0, qualunque cosa abbiate in mente di poter fare su un computer potete farla tranquillamente su questo, tablet, ambito multimediale, visione contenuti, scrittura testi, lettura testi, editing video, editing foto, non c'è veramente limiti e probabilmente il limite è solo la vostra fantasia. Ah, si può anche giocare, ma io giocare su dispositivi di questo tipo sui smartphone mi rifiuto e continuerò a rifiutarmi per sempre. Multitasking è avanzatissimo, difatti possiamo dividere questo display in due pezzi, in due tablet a 7 pollici e mezzo, o addirittura in tre finestre, o addirittura in tre finestre più una finestra pop-up, due finestre pop-up, insomma. Se avete voglia di impazzire con mille finestre aperte, con questo display potete farlo. E l'utilità è assoluta se magari state, come nel mio caso, scrivendo il testo di questo video, analizzando le caratteristiche, informandovi appunto online e copiando dei pezzi necessari a completare lo script del testo appunto del video stesso. Nel frattempo comunque potete anche mettere in riproduzione il video YouTube, potete fare un miliardo di operazioni simultanee e vi assicuro che non ci sarà mai nessun blocco, mai nessun problema, nulla. Ci piazzate una tastiera e un mouse Bluetooth e vi diventa, a tutti gli effetti, un computer portatile. Parliamo poi di S-Pen. S-Pen è stato il marchio di fabbrica di Samsung su mobile. Samsung è stata la prima ad introdurre una penna, quindi una tavoletta grafica su smartphone. I primi Galaxy Note sono stati eccezionali per produttività, per possibilità, per tante sfumature che solo con questa penna riuscite a fare. Altri produttori, vero Apple, la penna ve la fanno comprare a parte. Qui nel tablet, nel Tab S9 Ultra, la penna è inclusa e potete scrivere testi, potete disegnare, potete interagire durante una registrazione di una schermata. Le interazioni che possono avere questa penna sul tablet sono pressoché illimitate, a differenza di iPad che ha fatto una bellissima Apple Pencil per quanto riguarda però creatività e disegno, ma interazioni tra finestre, tante piccole mille funzioni, vabbè. Creare note e vi assicuro che la definizione della scrittura è veramente eccezionale. 2,8 millisecondi di latenza della penna, quindi è effettivamente come scrivere su carta. Qui c'è il pannello dell'S Pen che vi indica sia tutte le gesture possibili, perché il tablet può essere comandato da questa penna, quindi premendo il tastino si possono fare varie funzioni su giù e quant'altro, sia per la multimedia, sia per tante altre sezioni del tablet, quindi effettivamente è un plus, è uno strumento di interazione reale col tablet, una tripla schermata. Possiamo anche ridurre e ridimensionare le dimensioni dei vari quadranti. Qui ho fatto un piccolo disegnino stile scuola elementare per fare la copertina appunto del video. Tutto questo può interagire, cioè se voi trovate un testo qui da questa parte, che ne so adesso proviamo ad andare in galleria, questo testo qui se voi ci permette sopra potete prendere e spostare tutta questa fotografia o solo il testo o fare delle ricerche qui su Google. Insomma, l'interazione che ha questa S Pen con tutto il tablet è effettivamente reale. La posizione dietro è un po' scomoda, non la condivido, ma si può anche appoggiare qui sopra in maniera magnetica. In questo caso, vabbè, c'è la pellicola, c'è la cover, quindi non la fa attaccare, ma è posizionabile anche sopra, solo che sopra non si ricarica. Mentre una volta appoggiata dietro, vi darà questo simbolo qua, 100% in ricarica. Le fotocamere posteriori sono di ottima qualità, 13,8 megapixel, ma vi prego non scattate foto con tablet, perché c'è già immaginare di portarsi questo coso enorme appresso, magari in tasca, e camminare zoppi con la gamba a monca è già ridicolo di per sé. Registra anche in 4K fino a 30 frame per secondo e ci sono anche degli effetti carini per la fotocamera frontale che mi ha stupito perché uno dei due sensori è a 120 gradi, quindi riesce ad avere un grande angolo appunto e uno spazio di visione veramente immenso. E la batteria da 11.200 mAh garantisce un uso divano quasi settimanale, uso intenso, siamo sui 2-3 giorni, in ogni caso non ho mai fatto meno di 7 ore di schermo attivo. 4 mail in push, GPS quasi sempre attivo, Bluetooth sempre attivo, quindi utilizzo con tastiere e mouse Bluetooth. Prezzo 1.349 euro per la versione 256 GB Wi-Fi, a differenza del suo concorrente iPad Pro 12.9 che costa 1450 euro, con Apple Pencil separatamente che costa 133 euro. Ma c'è un ma perché questo tablet lo troverai già praticamente in tanti siti con degli sconti super per cui riuscite anche a portarvelo a casa a 949 euro. Vi assicuro che prendere questo dispositivo a 949 euro è un top choice, top choice assoluto. E' per questi due motivi, per rapporto qualità-prezzo, che questo tablet diventa il re in discorso dei tablet del 2023, almeno fino a questo dicembre sarà il re. Poi da gennaio, febbraio, marzo 2024 usciranno altre versioni, altri tablet, altri iPad, eccetera, eccetera, eccetera. E dunque, perché allora non ho preso un PC portatile o un Mac per fare ciò che intendo fare con questo dispositivo, ovvero editing video? Semplicemente perché ho due possibilità. Posso tenerlo come tablet e quindi visione di contenuti multimediali ovunque io voglia, su uno schermo grande, bello, effettivo e dolce come un bignè al cioccolato, oppure farlo diventare un PC portatile e con due semplici strumenti, una tastiera e un mouse bluetooth, una piccola borsettina in praticamente, boh, che ne so, 35 cm di spazio, io riesco ad avere un computer completo per editing video, montaggio, foto e quant'altro. La possibilità di acquistarlo già a 500, 400, comunque euro in meno dal prezzo di lancio è, secondo me, un game changer nella scelta. Se poi siete abituati con iOS, questo tablet non fa per voi. Io invece, dovendo utilizzare causa social iPhone, sentivo un po' la mancanza di Android, della sua libertà, della sua prontezza. Onestamente, questo Android 13 su questo top di gamma tablet è una goduria assoluta perché vi permette di fare tutto ciò che potreste fare col PC qui sopra e quindi avevo bisogno di recuperare un po' quel sapore di libertà, quel sapore di androidianesimo che un po' mi mancava con iPhone. Fatemi sapere un po' nei commenti cosa ne pensate, se lo conoscete, se lo avete valutato, se lo possedete, se avete qualche domanda o se questa recensione vi ha lasciato dubbi o perplessità. scrivetemi nei commenti e cerchiamo sempre di interagire. Vi ringrazio immensamente per aver assistito a questo video, vi lascio con il pezzo qui indicato e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!